Oggi veniamo a decisioni da parte di alcuni paesi della Commissione Europea che francamente mi trovano assolutamente d'accordo, le decisioni prese dalla Svezia e dalla Remarca su tutte ma anche da altri paesi, ma per un semplicissimo motivo, perché noi continuiamo a pensare che ci debba essere la disponibilità e sia giusto accogliere e sia giusto dare una mano a coloro i quali realmente scappano dalle guerre, per cui ai cosiddetti rifugiati, ma quelli che non hanno diritto di rimanere in Europa vanno giustamente espulsi, per cui io credo che l'atteggiamento svedese sia un atteggiamento equilibrato, ma sia un atteggiamento soprattutto giusto. Certo è che l'Unione Europea deve prendere una decisione, deve prendere la situazione per mano, cioè non ci possono essere paesi che si comportano in un modo e paesi che si comportano in un altro. Questo è il fallimento dell'Unione Europea e se ci doveva essere ancora una prova di quello che è lo Stato dell'arte all'interno della Commissione Europea questa è l'ennesima considerazione. De Petris un attimo solo, mi scusi non ho capito Guidesi, lei ha detto il governo italiano ha fatto business, qual è il business? Il governo italiano ha creato il business sull'accoglienza, il governo italiano ha creato un business che l'anno scorso, se posso finire, però se no rimane come slogan, siccome mi ha fatto una domanda, il governo italiano l'anno scorso ha speso dal bilancio dello Stato 3 miliardi e mezzo di euro per il sistema dell'accoglienza, questi 3 miliardi e mezzo di euro sono prevalentemente andati a cooperative e ad un sistema accoglienza che è nato dopo le normative che ha fatto il governo italiano, i famosi 36 euro al giorno dati alle cooperative per l'accoglienza del sistema. Persone che per gran parte non sono rifugiati e non scappano da guerra, vorrei ricordarlo.